In mezzo all'oceano, in quell'arcipelago, si intrecciano isole, misteri che non si svelano. Un viaggio bellissimo, paesaggio fantastico, ma a volte lo sai le cose non sono mai come sembrano. La banda di netta è pronta e sa che bisogna combattere, tra mille perché la storia non c'è e tutta da scrivere. C'è chi dice che la banda di netta ha forza da vendere, dai mettiamoci in gioco sull'isola del fuoco. Sono sette le tavole da ritrovare, ognuno è un dono sai da custodire, è un'avventura straordinaria questa storia. La banda di netta è qua per i doni di Firelands.